Cambio al vertice dell'arma, il generale Salvatore Luongo, il nuovo comandante generale dei Carabinieri. La nomina è arrivata nel corso del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della difesa Guido Crusetto. Cresciuto a Venafro, il generale Salvatore Luongo dal 1977 serve lo Stato e onora la divisa dell'arma. Prenderà il posto di Teoluzzi. Con mozione da parte della famiglia, piena di gioia e di orgoglio, come se vince dalle parole del fratello, il maestro Claudio Luongo, intervenuto nel nostro telegiornale. Beh, ovviamente è una grande festa, non so come definirla, è una grande gioia perché comunque noi di famiglia veniamo da una famiglia di Carabinieri, mio padre era maresciallo, e quindi questo è un orgoglio soprattutto ripensando ai nostri genitori che non ci sono più e quindi è stato un grande momento di gioia per tutti. Ovviamente mio fratello ha mantenuto la sua umiltà, il suo modo, le sue origini. Noi siamo visti in caserma, forse la sua forza è proprio quella che comunica con i Carabinieri in modo dal basso. Ci siamo visti domenica e giusto per essere così informali è venuto a dare una mano a me, a raccogliere le olive, però è stato solo tre ore perché poi sempre stavano le telefonate e non riusciva a rimanere sulla pianta. Ad augurare buon lavoro al generale Luongo tutto il mondo della politica molisana per l'intera regione un giorno di festa. In questo momento di emozioni e di gioia voglio dedicare un pensiero ai genitori del generale, commenta il sindaco di Venafro Alfredo Ricci, al papà storico comandante della stazione di Venafro e alla indimenticabile mamma, con l'augurio che i nostri giovani possano trovare in questa nomina una fonte di ispirazione. Salvatore Luongo è un figlio illustre di questa terra che rende tutti noi fieramente orgogliosi di essere suoi corregionali, così l'eurodeputato Aldo Patriciello. Pronto a ricevere Salvatore Luongo, quanto prima in visita istituzionale, il presidente della regione molise, Francesco Roberti. Di questo prestigioso incarico dice ad andarne fiero e tutto il molise. Al generale Salvatore Luongo giunga un in bocca al lupo da parte di tutti i molisani. Sono certa, commenta l'onorevole Elisabetta Lancellotta, che svolgerà il nuovo compito con grande competenze e con spirito di amor patrio. Grazie a tutti.